Io personalmente durante la detenzione ho scritto un libro in cui ho riassumato tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita prima di essere detenuto e quindi ho girato quasi tutto il mondo e ho scritto tutto in un libro. In ogni caso la detenzione ti porta a riflettere proprio sulla tua vita e se fai qualcosa di importante, tipo la cultura, lo studio, il teatro... Il cinema è venuto dopo il film dei fratelli italiani, prima abbiamo fatto per molti anni teatro e quindi ti dà possibilità di avere più consapevolezza e di realizzare gli sbagli che uno ha fatto e poter poi avere una visione diversa della tua vita futura. Quindi è un percorso che si costruisce giorno dopo giorno attraverso appunto anche molta sofferenza, riflessione e rendersi conto veramente di quello che uno ha fatto e che vuole fare nella vita dopo, quando termina il percorso detentivo. Quindi ora lei mi sta dicendo che il teatro e anche questo film che lei ha fatto Cesare l'ha aiutata a uscire fuori forse dalla visione un po' cupa in cui era... Ma è attraverso la cultura in generale che può essere il teatro, lo studio, anche il cinema perché uno si mette in discussione di conseguenza mettendoti in discussione rivedi un po' tutta la tua vita e quindi dopo hai una consapevolezza maggiore di conseguenza puoi affrontare la vita in un'altra maniera, esula da certe cose che prima invece facevano parte della tua vita. E il sogno che adesso hai in mente? Il sogno che io ho in mente adesso è di avere una vita tranquilla, cosa che non ho mai avuto prima. Adesso lavoro per conto mio, io non lavoro la 29 giugno, io sono amico di Francesco, mi ha chiamato il pomeriggio, nemmeno sapevo di venire qui. Io sono socio di una ditta che si interessa di import-export, di prodotti ittici. Però in ogni caso, sia con la loro cooperativa che il lavoro, ci permettono poi di poter piano piano rientrare in un contesto civile, diciamo. Aspetta bene chiara, parliamo un po' di cinema, se no questi che l'abbiamo fatti in avanti. Ci abbiamo il nostro critico cinematografico, che se si fa vedere, o lo vedete, lo vedete, lo dobbiamo far avvicinare dalla giù. Beh, forse non lo vedono loro, forse è meglio che venga alle spalle loro. Buonasera, il ragioniere Femiano Brengelli, l'uomo che sta di cinema, forse ha le spalle, non lo so, davanti, si mette a polla i ghiacchi. Anzitutto vi volevo ringraziare anche a nome mio per essere intervenuti e farvi complimenti, ho visto il film l'anno scorso in sala, prima che vincesse poi l'Orso d'Oro, l'Arcide e Donatello. Perché costano di meno, costano di meno poi. Immagino che siate orgogliosi, insomma, di questo premio, no? E volevo fare una piccola domanda riguardo proprio l'articolo 27 della Costituzione, da questa visione ampia proprio della pena detentiva, anzi, cioè, la allarga oltre, no? E penso che voi, insomma, ne abbiate beneficiato. Magari inizialmente, non so, avete affrontato la cosa come un modo anche per evadere, tra virgolette, scusate, mi consentite. La scusa per uscire fuori, insomma, diciamo. Ma volevo sapere, poi, alla fine, con il cinema, con il teatro, ma soprattutto con questo film, è nato un amore, veramente? Ma l'amore per me è nato prima di... Microfoni, c'è una... ma... scusi, lei è attore? Sì. E quindi sa che si mette il microfono, può guardare di più la videocamera, non loro. Attore, proprio. Ma siamo sicuri, eh? Ma che ce l'avete portato? Due sosia? No, sono loro, eh? Sono bravi, sono bravi. Allora, la videocamera che inquadra è quella, là. Quindi se si parla là, si parla ai nostri spettatori. Qui nel cinema, abbiamo due videocamere in tutto qui, per cui dobbiamo girare intorno, dobbiamo aggiustarci. Microfono molto vicino alla bocca. Attore, proprio... un film, quindi... Un film. No, ma mi interessava sapere, scusate, proprio se è nato un amore, c'è una passione, un trasporto verso questo atto del recitare, del fare cinema. L'amore è nato circa 15 anni fa, quando sono entrato in carcere. Andrò in carcere perché, quando entri in carcere tu devi sapere, se vuoi andare avanti devi abbracciare e fare qualcosa. Quindi se devi passare il tempo e non devi cominciare a uziare, a pensare tante cose, devi fare qualcosa. Io sono entrato in carcere e non avevo nemmeno la licenza media. Quindi oggi, dopo 15 anni, posso dire che mi sono diplomato, sono iscritto all'università, sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza, ho fatto 14-15 esami e poi ho fatto tante cose come il teatro. A me non se gli serve un avvocato buono, sa dove trovarlo. Avvocato proprio no, perché... Massimo della vita. Qualche consiglio, massimo della vita. Poi è meglio che si difenda da solo, insomma. Quindi per me è stato, poi ritornando all'articolo 27, che il carcere sarebbe la rieducazione, che deve tendere alla rieducazione, giustamente tende alla rieducazione. Però chi si vuole rieducare, perché non ci sono tante opportunità, specialmente in questi ultimi periodi, ultimi anni, praticamente, che c'è un sovraffollamento, che se non c'è la persona che vuole uscire e vuole cercare di risolvere i problemi, non ci riesce. Però ci vuole tanta forza e tanta buona volontà di farlo. Quindi per me che sono entrato in carcere è stata veramente dura, però ce l'ho fatto, perché non lo so gli altri. E si fa solo con la cultura, con lo studio, con il teatro e con tante opportunità che ci danno. Opportunità ci sono, però bisogna impegnarsi per andare avanti. Ragione, di farci una domanda di critica cinematografica, vediamo se sono pronti. Proprio sul film. Il film è una sorta di incrocio tra la finzione, la catarsi, il teatro che diventa cinema, che mischia la vita reale e il vissuto. Anche per voi, in qualche modo, al di là dei contenuti del film, è in qualche modo così quando fate teatro, quando fate recitazione? Ma ti dirò, nel film, Cesare deve morire, è tutto vero e niente è vero. Quindi se l'hai visto sai di cosa sto parlando. Sono i vari piatti che si confondono proprio. Però ha dato la possibilità all'interlocutore di comprendere un mondo che spesso è falsato dai media e non è compreso come veramente è dentro. Questo per quanto riguarda il cinema. Per quanto riguarda invece il teatro, il teatro è passione. Perché all'inizio lo usi per uscire dalla cella e stare fuori e non chiuso dentro. Poi dopo, piano piano, c'è una cernita. C'è chi inizia ad appassionarsi ai testi e quindi rimane un gruppo, uno zoccolo duro. Ho fondato io insieme a altre due o tre persone la compagnia Liberi Artisti Associati, che poi è venuto dopo il regista. Di conseguenza piano piano entriamo nelle parti. Ognuno cattura i testi, studi i testi. Quindi entra veramente la passione. E automaticamente cominci ad avere... Ti piace fare teatro poi? Non è più soltanto andare via dalla cella per uscire da qualche ora fuori. Diventa un qualcosa che ti fa crescere. Quindi è nato l'amore. È certo che è nato l'amore. È buono, insomma, un applauso allora per questo amore che è nato. A cosa serve il cinema e a cosa serve la Costituzione, diciamo. Visto che abbiamo qui con noi gli attori, che mi dite se ci hai citato una parte del film? Ehi, forza, forza, forza. Un pezzetto piccolo piccolo. Un pezzetto. Ti spiego, non so che parte potremmo fare perché in pratica... A me mi hanno pugnalato dodici volte, insomma, quindi... Un pugnale, un cortello, ma la schiena... Ma brutto non c'è. Un cortello se lo ha trovato. Lui mi avvisava, lui è l'indovino, che mi avvisava di certe cose che io non ho preso in considerazione e di conseguenza mi hanno eliminato. Questo è il discorso, la sua parte e la mia. Quindi a rifarla qui realmente la vedo un po'... Un po' difficile. Sì, la vedo fuori tema. E che ci potete recitare allora? Non so, noi facciamo teatro e... Per me non potremmo fare qualsiasi cosa di teatro. E facciamo qualsiasi cosa. Un'improvvisazione? Che ne pensa? Non c'è, non si sente a te senza microfono. Ci fai qualcosa di William Shakespeare? Essere o non essere, questo è il problema. Abbiamo fatto l'Amleto molto tempo fa, abbiamo fatto Dante, abbiamo fatto... Ultimamente abbiamo fatto un testo che si chiama Bazar, che riprende... L'abbiamo fatto al Golden a Roma, abbiamo fatto varie repliche in Italia. E questo è un testo nuovo perché prende la storia dell'Italia degli anni bui, no? Io dovevo fare la parte di chi uccideva Pasolini, invece poi Pasolini l'ha ammazzato un altro. Quindi la mia parte è quella di colui che doveva uccidere Pasolini perché era scomodo. Ecco, prende la scena, vedi l'attore, è vero? L'abbiamo detto l'altra volta, prende la scena, fa finta... Non ho preparato niente questa notte. Cioè a me mi hanno telefonato alle 7 e un quarto. In realtà studia tutta la notte, ha studiato. Non sapevo neanche dove era il suo posto, comunque. Ha detto che lui sa tutto di Piazza Fontana e della strage di Bologna dei primi mesi del 74. E ha detto che sa anche i nomi di chi sta organizzando il golpe. Ebbene, questo pazzo visionario va fermato. E ci penso io. Però non lo faccio subito. Aspetto qualche giorno, il tempo di organizzarmi, il tempo di preparare un piano. Il problema è che potrebbero farmi aiutare da qualcuno. Però basta non dirlo ai miei capi. Ma chi sono i miei capi? Io non so chi sono i miei capi. Io non ho mai saputo chi cazzo erano i miei capi. Grazie.